buongiorno a tutti oggi nel nostro spazio di benessere sana alimentazione parleremo di merenda la ricetta di oggi avrà come ingrediente l'uovo l'uovo è una miniera di nutrienti contiene proteine di alto valore biologico vitamine del gruppo b ferro acido folico e in più delle sostanze importanti anche per mantenere il benessere del nostro sistema nervoso come la colina oggi vediamo la ricetta che ci prepara danilo con questo ingrediente oggi prepariamo un sandwich di pane integrale con zucchine marinate all'aceto di mele e un uovo mantecato al grana padano in questo caso utilizziamo due stagionature di grana padano d'op una stagionatura oltre i 16 mesi e un riserva evelina io comincio a tagliare le zucchine sottili e aggiungete sale pepe pochissimo olio e dell'aceto di mele la zucchina la ritroveremo per tutta l'estate è un ottimo ortaggio per la funzione rimineralizzante e diuretica adesso andiamo a tostare il pane quindi un pan carré integrale la scelta del pane integrale è ottima perché nella giornata dobbiamo inserire delle fibre andiamo a setacciare l'uovo io ho fatto cuocere le uova in acqua quindi le ho rese sode con un colino le schiacciate in modo tale che poi rimanga cremoso e vado ad aggiungere del grana padano d'op oltre i 16 mesi grattugiato questa ricetta danilo è veramente equilibrata nei nutrienti anche se ha un alto valore proteico dato dall'uovo e dal grana padano d'op che in più fornisce anche calcio quindi con questa ricetta abbiamo una merenda equilibrata che ci sostiene durante tutta la giornata adesso molto semplicemente vado a spalmare le fette di pane vado a aggiungere le zucchine hai inserito la verdura che ci permette di ridurre anche l'assorbimento dei grassi contenuti nella ricettina preparo delle lamelle invece di grana padano riserva bene adesso lo vado a impiattare oppure potrebbe essere anche un antipastino ah certo questo si è tagliato magari poi in quattro invece che in due per un aperitivo possiamo passare dalla merenda all'aperitivo sandwich di pane integrale con zucchine marinate all'aceto di mele e uovo mantecato al grana padano d'op appoggiare le femmine